Sofia Motio, parlamentare nazionale del PD, oggi ad Augusta ha fatto lei una ricognizione del porto. Quale iniziative ha intrapreso e quale intende intraprendere in difesa dell'autorità portuale di Augusta? Io mi sono occupata, come tanti altri ovviamente, e quindi questo ci tengo a specificarlo, più siamo meglio è, come si dice, l'Unione fa la forza. Mi sono occupata nell'immediatezza di depositare al Ministro del Rio un documento molto dettagliato e specifico che ho qui con me, specificando che l'unica autorità portuale, quindi l'unica porta authority che ha veramente l'importanza, soprattutto strategica nel Mediterraneo, ma anche per il notevole commercio e afflusso di materie prime, di merci che ha, è Augusta. E quindi, oltre a Palermo, che appartiene ovviamente alla Sicilia occidentale, in Sicilia orientale, deve essere nominata Augusta come porta authority. Stamattina ringrazio subito, devo dire, la Capitaneria di Porto e l'Associazione dei Barcaioli, la Cooperativa dei Barcaioli, perché ci hanno permesso di fare una perlustrazione molto importante, molto anche bella del porto, perché ovviamente noi leggiamo, apprendiamo, studiamo i documenti sul porto di Augusta, ma vederlo di presenza è tutta un'altra cosa. Ci si rende conto veramente della grande importanza di questo porto naturale e di quello che potrebbe anche diventare in futuro, perché ha grandi potenzialità, molte di più di quelle che già vengono utilizzate. Qualche mese fa lo stesso Ministro del Rio ha avuto occasione di visitare il porto di Augusta. Il Ministro del Rio è al corrente di tutto, deve solo sciogliere la riserva, perché chiaramente ognuno spinge per far sì che venga nominata la propria città. Mi riferisco a Catania e a Messina. Il Ministro del Rio è al corrente di tutto, non deve sciogliere solo la riserva sul porto di Augusta, ma anche voi lo sapete benissimo su altri porti, per esempio Genova e Savona o altri porti del sud. Quindi diciamo siamo tutti in attesa, ma lui è al corrente di tutto. I numeri, le statistiche sono nettamente favorevoli al mantenimento dell'autorità portuale ad Augusta. Che cosa lo impedisce allora? Guardi, io non ho dubbi, non ho alcun dubbio che l'unico porto che veramente ha la funzione, deve avere la funzione di porta authority è Augusta. Non c'è nessun impedimento, nessun impedimento reale. C'è semplicemente da attendere una decisione che poi alla fine, purtroppo o per fortuna, spetta un Ministero. Una decisione che verosimilmente arriverà quando? Guardi, speriamo, pensavamo fine mese, però ripeto, non dipende da noi. Io come deputazione ho sottolineato ogni dettaglio, ma poi ripeto, il Ministro lo sapete bene, è venuto direttamente qui, si è reso conto di persona, di che cosa è il porto di Augusta.